Disorientato come una persona che riteneva di aver già chiarito davanti ai magistrati la sua posizione, Marcello Langianese, presidente dell'OER Bari e conducente di mezzi per conto di una ditta, è apparso così al suo avvocato dopo l'arresto. Il 51enne è stato portato in carcere con l'accusa di aver preso parte all'assalto a un portavalori messo a segno nel 2011 a Ortona, in Abruzzo. Secondo il jeep langianese, avrebbe portato dalla Puglia all'Abruzzo il furgone rubato tempo prima a Massafra che servì a speronare a bloccare il portavalori e questo è stato lo stesso langianese ad ammetterlo prima ancora dell'arresto. Per il jeep però lo ha fatto sapendo a cosa sarebbe servito il mezzo, di più il suo corritorio avrebbe partecipato alla rapina per la difesa, una banda in grado di organizzare un colpo da quasi 2 milioni e mezzo di euro non avrebbe mai messo nelle mani di un componente del gruppo il furgone, se non altro per evitare che fermato per un controllo in autostrada potesse far risalire gli investigatori a tutta la banda. Insomma, l'angianese sarebbe stato usato come un ignaro corriere a cui era stato chiesto di sostituire nel viaggio un autista ammalato. Il presidente dell'OER ripeterà la sua avversione nell'interrogatorio di garanzia, non si sa ancora se avverrà a Bari o a Chieti, la città in cui è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare. In quella sede l'avvocato Rosario Greco presenterà anche l'istanza di remissione in libertà. Nel frattempo all'OER preferiscono non commentare. Lo sgomento delle ore successive all'arresto ha lasciato il posto al silenzio. Grazie. Grazie.